Scusate per il ritardo, abbiamo un'ora di ritardo, però dovete capirci, la preparazione scacca tanta, ma c'è un po' di condizione. Allora, con pomeriggio, oggi Bebino Chic come sempre vi dà il benvenuto per questa nuova manifestazione. Tra pochi minuti, vi prometto tra pochi minuti, assisterete alla visione della nuova collezione Adun e Inverno. Questa, per Bebino Chic, è la seconda edizione, bensì abbiamo fatto il gioco del 4 settembre in piazza. Per assoluta differenza, ci sono sempre dei campi diversi, nuovi e sempre di nuove tendenze, è sempre centrata sul casual e inizia, abbraccia tutte le nostre età, dallo baby allo junior, quindi da 0 a 16 anni con accessori moda. Adesso vi lascio alla prima uscita dove vedrete tante sorprese. Buona visione! Grazie! 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 Sì che tu non ti vado con un grife, perché mi vado la nuova patica e non lo permite. Io non ho capito, 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 io non ho capito. Io non ho capito, io non ho capito, io non ho capito, io non ho capito. Io non ho capito, io non ho capito, io non ho capito, io non ho capito. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.